Sabato 9 ottobre, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa, occhio giornali come di consueto al mattino in diretta alle 7, poi on demand sul sito internet occhio notizia, su youtube, su facebook e dunque con ampia possibilità di seguirci quando volete in qualsiasi momento della giornata. Allora andiamo subito a vedere il santo del giorno, poi il tempo, il santo è San Dionigi e i compagni, il sole sorgerà alle 7 e un quarto e tramonterà alle 18 e 36 minuti. Il tempo previsto per oggi, avremo piogge sparse più probabili al nord della regione, anche carattere di rovescio nel corso del pomeriggio, per quanto riguarda domenica ancora pioggia sul settore centro meridionale della regione e lunedì 11 il miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso, condizioni di tempo stabile anche nella giornata di martedì a cui farà seguito un peggioramento a metà della prossima settimana. Allora titoli delle prime pagine dei due quotidiani, il Carlino e il Corriere, cominciamo dal Carlino di Pesero, la fotonotizia avanti c'è posto, cinema e teatri con capienza al 100%, ora i gestori respirano e poi il pronto soccorso, concorso deserto, continua la fuga dei medici del reparto di emergenza, nessun candidato all'ultima selezione di Marche Nord, ritrovata la prof scomparsa era a Roma, stazione Termini voleva stare un po' da sola, riconosciuta da due agenti della Polfer, tragedia alla cena, muore per infarto a 50 anni, il padre di un giocatore del Vispesero era con gli amici a Muraglia, bollette da paura, la rabbia del barista aumentano i prezzi, chiudo o meglio aumento i prezzi oppure chiudo, poi Startup Fanese che ha realizzato la tuta spaziale per i voli orbitali, prima missione il 21 prossimo e poi sfuma il sogno dell'Eurovision, Pesaro fuori, ha vinto Torino, di taglio basso invece VL verso Bologna, Jones dalla carica e poi il volley, megabox all'esordio, Angeli attacca Pesaro. Corriere Adriatico, sempre edizione di Pesaro, naturalmente la cultura si rifà in presa, consensi per le riaperture al 100% dei luoghi dello spettacolo e dell'arte, entusiasti gestori dei cinema, ripartono le stagioni, il comune di Pesaro recupera 400 posti, la galleria di Urbino intercetta più turisti, la fotonotizia è per le scogliere, la regione non le finanzia, il progetto ovviamente riguarda l'anti-erosione e questa è la spiaggia di Pesaro. Anti o meglio effetto scuola disinnescato e i contagi non crescono, mentre coltello e spaccio dentro il carcere detenuti nei guai, effetto secessione due istituti scolastici a rischio autonomia e poi comuni e frazioni, la riqualificazione porta a 120 milioni. Pinqua fanno senza soldi i cittadini presi in giro, dura polemica del Movimento 5 Stelle contro la Giunta Seri, opere da 26 milioni già presente nei rioni, poi tartufo e business, economia da 20 milioni di euro. Andiamo a vedere adesso le pagine interne, intanto la notizia, la buona notizia è che la professoressa che era scomparsa da casa ormai da più di due giorni è stata ritrovata, riconosciuta da due agenti della Polfer alla stazione Termini di Roma, è stata dunque ritrovata nella capitale, voleva stare un po' da sola, lei poi a quel punto quando insomma ha capito che la stavano cercando ha chiamato i familiari sta bene, era scomparsa da mercoledì mattina. Voleva stare un po' da sola scrive il giornale questa mattina con i suoi pensieri Daniela De Matteis, l'insegnante di educazione fisica della scuola media Padalino di Fano che per due giorni ha tenuto con il fiato sospeso parenti, amici e colleghi che non riuscivano più a rintracciarla. Mercoledì mattina infatti la professoressa, una donna di 58 anni non si è presentata al lavoro e da quel momento ha fatto di tutto per depistare le indagini avviate dai carabinieri dopo che la famiglia aveva denunciato la scomparsa, aveva spento il telefonino, ha tolto la scheda e quindi insomma era di fatto irraggiungibile a tutti gli effetti. Pesaro invece è stato colpito da questa notizia dell'altra sera di una morte improvvisa, un infarto probabilmente fulminante che ha portato via Luca Galeazzi, 50 anni, babbo di Giovanni, una promessa del calcio bianco-rosso, allora fulminato da infarto alla cena con amici, questo è il titolo, la vittima è il padre di un calciatore della Vis, è successo ieri sera alla casa del popolo di Muraglia, improvvisamente mentre stavano mangiando insomma lui e gli amici, Luca ha iniziato a tossire e quindi ha accusato un malore al centro del petto, infine si è accasciato al suolo ed è caduto insomma, tutto è successo in pochi drammatici attimi, racconta Eusebio sul carino di questa mattina, ad uccidere Luca è stato un arresto cardiaco ma dicono alcuni amici che lo conoscevano, non aveva mai sofferto di nulla, non aveva problemi di salute, l'abbiamo sempre visto in forma, sempre allegro fino all'ultimo. I parenti insomma fino ad una certa ora non sapevano nulla, quindi naturalmente anche racconta insomma tutto il dramma, la drammaticità di quei momenti soprattutto, l'avvisare soprattutto i familiari. Luca è sposato, ha un figlio come dicevamo, Giovanni, giocatore della Vispesero, alcuni testimoni raccontano insomma che quello che è successo, sono stati ascoltati fino a sera tardi e adesso si cerca di capire quale sia stata la causa del decesso, probabilmente un infarto che ha schiantato prematuramente una vita molto amata da tutti. Andiamo a Fano invece sulla pagina del Carlino. Questa mattina si parla delle tasse, le tasse a cui sono sottoposti molti commercianti, tutti i commercianti, evidentemente tutti quanti ma in particolare i commercianti. Questa mattina lo sfogo è quello di un commerciante molto conosciuto perché in attività da molto tempo, Leonardo Vitali, tutti lo conoscono come Leo, il gestore del titolare, uno dei titolari del Pinobar di Fano. Tassa alle stelle, il Pinobar, siamo stritolati, questo è il titolo, tra rincari delle bollette, aumenti vari, Leonardo Vitali, contitolare dell'attività, lancia l'allarme, abbassare le serande o aumentare i prezzi. E dice sono disposto anche a mettere in una baccheca fuori del locale quelle che sono le bollette, i costi che noi dobbiamo sostenere e tra l'altro se ci sarà l'aumento delle utenze, per la luce si parla di un più 40%, noi commercianti come faremo a sostenere le spese? Vi mostro, dice, le bollette del mio bar, anzi ho intenzione di esporle all'ingresso e dice le spese fisse sono 100 mila euro all'anno da cui non si può fuggire, la cifra più consistente è quella dell'affitto, 67 mila euro per un locale di 177 metri, e poi ci sono altre spese come la luce per esempio, 30 mila euro già pagati da gennaio e settembre, la TOSAP che aumenterà tra l'altro 4.500 euro, insomma poi c'è tutto un elenco di spese, di considerazioni anche che fa a livello personale ma non solo, anche in rappresentanza di quella che è la categoria, non solo la sua come barista eccetera, ma insomma che è la situazione in cui si trovano un po' tutti quanti e quindi è un problema davvero molto serio, anche alla luce in vista dei nuovi aumenti. Divide invece la pista ciclabile della Paleotta, siamo sulla pagina di Fano, del Corriere Adriatico, la via che prende il nome del quartiere diventerà senso unico con l'eliminazione degli stali di sosta, il progetto della Giunta presentato ai residenti, suscita però malumori, verrà abbattuta la tribuna Zengarini. Sulla pagina invece di Senigallia, mezzo chilo di eroina nello stomaco, corsa finita per il Corriere della Droga, aveva ingerito ovuli, si è sentito male al controllo della polizia che ha arrestato anche i due complici, aveva ingerito oltre mezzo chilo di eroina contenuta in 67 ovuli al momento del controllo, però si è sentito male proprio a causa dello stupefacente che aveva ben nascosto nello stomaco. L'operazione condotta dal commissariato di Senigallia è scattata a lunedì pomeriggio e rientra nell'ambito di un'attività di prevenzione e repressione insomma del territorio e quant'altro. I poliziotti hanno individuato questo nella zona di Senigallia una serie di auto e soprattutto di persone straniere che erano già state controllate e dopo aver intercettato una berlina di colore scuro gli agenti l'hanno fermata per un controllo e poi da lì insomma hanno individuato tre pakistani che erano a bordo di questa macchina, sono stati portati tutti nel carcere di Monte Acuto. L'ultima pagina invece della nostra rassegna è quella che riguarda Cartoceto, siamo sempre nel Pesarese, e questo comitato che è un po' in allarme per la storia dell'elettrodotto Adriatic Link. Allarmati per l'elettrodotto, questo è il titolo, e la perdita dei posti di lavoro. Il comitato cittadino si rivolge al sindaco per la stazione di conversione. Dunque su questa vicenda dell'elettrodotto il comitato che si è costituito per tutelare gli interessi dei cittadini ha inviato una lettera aperta al sindaco e all'intero Consiglio Comunale di Cartoceto. Il testo è stato letto nel corso del secondo incontro al quale hanno partecipato più di 100 persone convocato dalla società Terna e dal Comune nella sala Cecchini della Repubblica a Lucrezia. Insomma ci sono delle preoccupazioni per questo elettrodotto che serve chiaramente ma che preoccupa. Tra l'altro questa stazione di conversione elettrica coprirà una estensione di circa 60.000 metri quadrati oltre ad una serie di apparecchiature in corrente alternata e continua funzionali al suo esercizio. Mentre l'ultima notizia sempre da questa pagina sulla crisi idrica, il Movimento 5 Stelle con la Ruggeri chiede di chiudere subito il pozzo di Sant'Anna, siamo a Fossombrone, chiudere il pozzo di Sant'Anna che da luglio scorso eroga 150 litri al secondo di acque profonde che risultava ancora aperto nonostante le condizioni meteo, cioè nonostante il ritorno della pioggia, un po' come se fossero dimenticati di chiudere il rubinetto in sostanza e quindi la Ruggeri chiede di chiudere questo pozzo, un po' come è stato fatto già con quello del Burano. Poi ci sono le pagine sportive che chiaramente potrete leggere sui giornali in edicola, noi ci fermiamo qui, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì mattina come sempre alle 7. Arrivederci.